E adesso è il momento delle nostre splendide Peace Girl! Grazie a tutti! Allora, iniziamo con il Top 5 Italia! Allora, Top 5 Italia! Quinta posizione del Best Modelo di Proficiali di Pausa in 22! E adesso... Mirjana Montechiarello! Mirjana Montechiarello! Grazie! 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 Grazie a tutti. Signore e signori, diamo un po' alle fiamme. La The Best Model Europe Italia, categoria Teens 2022, è romana e si chiama Ludodica Sambucci. La The Best Model Europe Italia, categoria Teens 2022, è romana e si chiama Ludodica. La The Best Model Europe Italia, categoria Teens 2022, è romana e si chiama Ludodica. La The Best Model Europe Italia, categoria Teens 2022, è romana e si chiama Ludodica. Grazie. 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 Eleonora Lippidis Grazie 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 Bravissima Brava Mariana Numeri, nomi Brava Mariana Andate un po' che avanti ragazzi Signore e signori, ladies and gentlemen The best model of Europe In categories 2022 Nazione Romania Ricordiamo Is Teodora Mihaji Teodora Mihaji Attesa Un às Un Passo Cominamos Un Passo Grazie a tutti 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 E adesso Grazie a tutti 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 And now Grazie a tutti 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 Grazie a tutti